già da giorni volevo fare un video dedicandolo all'argomento ma è da circa una settimana che non trovo il tempo di fare un video per il mio canale di youtube santin chan allora credo che è passata anche una settimana del mio ultimo radioprogramma in sprecher o cinque giorni decido di fare questo radioprogramma così lo caricherò nel mio secondo canale di youtube radio santin chan lo volevo fare perché avevo letto in internet che andrea calogero camiglieri aveva dichiarato che gli era venuta voglia di vomitare riguardo il ministro dell'interno matteo salvini e e poi giorni dopo due o tre giorni dopo questo è successo magari gli ultimi cinque giorni lo hanno internato adesso dicono che sta in uno stato di salute critico ma stabile io ho veramente spero che nonostante la sua ormai già veneranda età 93 anni perché è nato il 6 settembre 1925 che migliori si recuperi e torni a scrivere perché io ho visto un programma nella televisione spagnola tv e che si lamentavano i commentatori i presentatori i conduttori chiamateli come volete ed anche il pubblico da casa sul fatto che non c'erano più nuovi episodi della serie montalbano montalbano è molto visto non solo in italia ma anche fuori dall'italia in spagna per esempio e tutti stimano camiglieri come grande scrittore e produttore del serie a televisivo degli episodi quindi è un grande scrittore e veramente rappresenta culturalmente parlando il made in italy adesso io non mi spiego invece perché uno scrittore come come lui come camilleri andrea calogero camilleri camilleri perdono camilleri camilleri si abbandoni a delle espressioni così non dico faziose perché ognuno può avere le opinioni sue ma in quanto personaggio pubblico così stimato e dalla lunga e profonda traiettoria come la sua dovrebbe un po' moderare i termini milioni di persone lo seguono non solo in italia quindi quindi i suoi pensieri le sue opinioni sulla politica e sulla società si possono trasformare in sentenze e un personaggio pubblico soprattutto della sua importanza e della sua reverenda età dovrebbe saper controllare la sua forma di comportarsi i suoi impulsi la sua emotività uno non può uscire a dire qualsiasi cosa uscirsene dicendo mi viene voglia di vomitare perché veramente è una mancanza di considerazione non dico verso Matteo Salvini ma soprattutto verso le persone che lo ascoltano perché molti dei suoi lettori e delle sue lettrici molti dei fan di Montalbano non solo in Italia o non vogliono sapere nulla della politica italiana soprattutto gli stranieri che Montalbano si guarda in tutta Europa ma anche fuori dall'Europa nelle Americhe in Asia nel Maghreb nei paesi arabi nell'Africa subsahariana per non dire nell'estremo oriente in Oceania lo guarderanno pure gli eschimesi in Alaska allora ci sono molte persone alle quali le sue sconsiderate considerazioni possono cangiare un bel niente come direbbe Montalbano e poi perché tra i suoi ammiratori e le sue ammiratrici e i suoi lettori e le sue lettrici i suoi teledipendenti ci sono anche gli elettori di Matteo Salvini della Lega Nord e della Lega Salvini oltre che del Movimento 5 Stelle lui magari ha un'età nella quale già si può dire quello che si pensa impunemente perché sente che già è arrivato ma lo stesso non può mancare di considerazione nei confronti di chi lo ammira e lo segue il mio punto di vista quindi è che dovrebbe essere bipartisan tenersi certe considerazioni per sé e qualora volesse esprimere il suo giudizio politico di farlo con criterio non scriteriatamente perché sparare delle sentenze è facile ma non è costruttivo ha voglia di vomitare ma che significa? è una mancanza di rispetto è una cafonata non che io voglia contestare le sue opinioni politiche lui può avere delle idee può avere dei concetti per i quali si trovi contrario a Salvini o contrariato da Salvini da Matteo Salvini io rispetto queste sue considerazioni non dico che lui debba andare d'accordo con quanto dice o fa Matteo Salvini ma ci sono modi e modi di esprimerlo e io credo che la violenza tanto fisica come soprattutto verbale sia una forma per far degradare la propria causa che ricorre alla violenza verbale e al linguaggio volgare fa venire meno le motivazioni della propria critica perché si dice che i violenti usano la violenza quando non hanno argomentazioni e la violenza può essere tanto fisica come verbale e quindi Camilleri ha usato una violenza verbale perché non aveva argomentazioni io badate bene e lo ribadisco non voglio dire che lui avrebbe dovuto affermare mi piace tutto quello che dice Matteo Salvini mi piace tutto quello che fa Matteo Salvini mi piace ascoltarlo mi piace guardarlo è bellissimo no lui come tutti noi anche meno importanti abbiamo addirittura il dovere di coltivare un pensiero critico quindi se qualcosa non ti piace lo devi dire ma lo devi dire in tono civile secondo modi garbati e secondo non solo una proprietà di linguaggio ma addirittura dei ragionamenti cosa non ti piace e perché e quindi credo che l'autore di Montalbano debba spiegarci cosa non gli piace di Matteo Salvini quello che dice quello che fa ragionandolo in forma critica con nozioni e concetti lui poi che è un grande intellettuale un grande scrittore non avrà difficoltà a spiegarci intellettualmente cos'è che non gli piace di Matteo Salvini e della Lega Salvini e della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle senza ricorrere a oscenità cafonate volgarità perché non sono degne di lui di tutti gli anni che ha da intellettuale da creatore di libri molto belli anche se non ho avuto la fortuna di leggere un suo libro io sono disoccupato poi nella mia camera come voi potrete vedere dai miei video in Youtube dove parlo di libri cercate rubrica letteraria nel mio canale di Youtube Sant'Incian io ho così tanti libri da leggere e rileggere che non ho nel denaro nel tempo per comprare nuovi libri tanto poi in Montalbano lo trasmettono nella tele è inutile che compro il libro ma io veramente da una persona così così intellettuale un professore che insegna nell'università una persona creativa che ha realizzato mille progetti differenti nell'ambito della creatività dell'arte della cultura della letteratura veramente io ho cercato informazioni su di lui ma non faccio un elenco di quello che ha fatto perché farei prima a dire le due o tre cose due o tre cose che non ha fatto perché ci metterei troppo tempo a elencare tutto quello che ha fatto 15 minuti non mi basterebbero io sono disoccupato e ciò ho la conta gratuito di Sprecher dopo questo episodio dovrò cancellare degli episodi e purtroppo non ho l'opportunità di di sostituire le tracce e quindi prima avevo degli episodi di un'ora di mezz'ora adesso Sprecher mi dà quattro ore gratis e periodi di 15 minuti dal cellulare tanto dal vivo come in registrato non dal vivo insomma ci siamo capiti e allora forza camiglieri recuperati se per caso mi senti o qualcuno che lo conosce gli trasmetterà gli farà sentire questa trasmissione riprenditi riprenditi camiglieri ma non soltanto nella salute riprenditi proprio come intellettuale e non ti abbandonare a facili e volgari eufemismi perché al giorno d'oggi tu devi essere l'esempio per molti giovani che non leggono che non hanno una forma forbita elegiaca ed eulica di parlare c'è troppa volgarità troppe parolacce anche in Sprecher in Youtube nella Rai troppa volgarità troppo trash e noi non vogliamo un camiglieri versione trash già c'è Andrea Di Pre che fa il suo trash e noi sappiamo che Andrea Di Pre non potrà mai essere un camiglieri non potrà mai competere con un Andrea Calogero Camilleri capito e allora perché Andrea Calogero Camilleri tu vuoi passarti per un Andrea Di Pre o per un Giuseppe Simone capito è quello che non va se qualcuno di voi conosce Camilleri gli passi questo programma radio perché va bene che critichi Matteo Salvini e critichi quello che fa quello che pensa quello che dice come ministro dell'interno o no ed il suo partito il suo movimento ma lo deve fare con degli argomenti non con degli insulti delle parolacce dire che gli viene da vomitare e poi qualche giorno dopo è stato male forse ha parlato così perché stava già turbato della salute sul punto di ammalarsi perché già ha avuto una ricaduta anni fa forse ha parlato così turbato dal suo malessere non lo so spero di no spero che si recuperi e che stia meglio però si deve recuperare fisicamente ritornare a scrivere che gli passerà e poi recuperarsi anche animicamente e comportarsi da intellettuale esprimere il suo giudizio critico molto importante ma in forma costruttiva non dicendo mi viene da vomitare se no che intellettuale hai capito? non mi fare girare i gabassisi e ciao a tutte e tutti dal vostro Sant'Encian grazie a tutti